Vogliamo chiedere al Signore quest'oggi la forza, ecco, la fiducia nella Sua parola, una parola che è forte, una parola che diventa veramente luce per tutti quanti noi, luce e salvezza. Gesù, Tu che sei Dio, non hai avuto paura a scendere in basso, fino a noi, e in basso ci sei sempre stato, ai piedi dei poveri, accanto ai malati, fino ai piedi dei Tuoi amici. Solo una volta ti sei posto in alto, sulla croce, trono meritato per eccesso di amore. Aiutaci, Maestro Gesù, aiutaci ad essere uomini coraggiosi nell'amore, aiutaci ad essere uomini da una fede incrollabile. Così sia.